good morning si qui sono dieci e mezza come dico in questi casi non proprio mattina prestissima una mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's march 16 2022 and it's a wednesday in naples a clear morning very still right now 16 and eight five and at around 16 this means that for me is and e cioè non è quella giornata isn't that day really 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 cold like this days in this episode ovviamente sempre per quella che è la mia percezione perché in generale fa comunque un pochino freddo ma non proprio il freddo di questi giorni appunto si vede che stiamo andando verso primavera comunque io invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo che è impossibile ma quanto meno di combattere il freddo per quanto concerne il video sui pensieri lo faccio sempre separato da questo in caso interesse quindi occhio anche se siete and you all just see from the window it seems that it's after noon the temperature be going up to the... qualche grado in più, or the sim level, but, anche qualcun ammì non lo possiamo sapere. But the really important thing is that with this atmosphere surely we are going to be enjoying those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. So, what to say, so the trend is going on for a few days, so we will continue like this also tomorrow. So, from the mythical window with the colored curtain, sublime oggi nulla da dire. And it's green roller shooter. The end me on top, not visible, and in fact the shot. And finally, from the mythical keyboard, the amadigix, 640, ipg, ipg, 625. Have a great day in all the people who follow the channel report. Sì, un saluto davvero a tutti. Nel caso ci vediamo al video pensiero, anche se non credo che lo faccio, o domani. Grazie. 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 Grazie.